Parleremo inevitabilmente del conflitto della guerra in Medio Oriente con l'attacco di Hamas e la risposta di Israele con quello che sta configurandosi come davvero uno scenario preoccupante. Ci occuperemo poi anche di Olimpia di Milano Cortina 2026, dello stadio di San Siro e di Berlusconi Alfa Medio. Ben ritrovati da Fabio Pizzu, il consueto appuntamento con In Dialogo con i Lombardi, lo spazio in cui dialogo con tutti voi a partire dalle vostre domande. Questa settimana ho avuto qualche problema con i messaggi di Whatsapp, a un certo punto l'app ha deciso di cancellare tutta la cronologia archivio, quindi potrei essermi perso qualcuna delle vostre domande. Nessun problema però perché ce ne sono e quindi partiamo con la prima. Maurizio da Vicenza, caro Fabio volevo confrontarmi con te sugli Olimpiadi di Milano Cortina e questa settimana si sta parlando degli eventi di Bob, di Scheletton e di Slittino che si dovrebbero svolgere dal progetto iniziale a Cortina. Però questo cosa sta contando la contrarietà di molti cittadini e molti abitanti anche per l'impatto ambientale che avrebbe a Cortina la pista di Bob. Secondo me il progetto degli Olimpiadi era un bel progetto, ma bisognava convolgere tre regioni. Bisognava convolgere il Veneto, la Lombardia e il Piemonte. Pensiamo alla pista di Torino che è stata usata per gli Olimpiadi Invernali nelle passate edizioni. Oggi è caduta in disuso. Sarebbe bello recuperarla per le Olimpiadi di Milano e Cortina. Ciao a presto. Grazie Maurizio per questa riflessione sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Qualche problema relativamente ai tempi di avanzamento dei lavori, soprattutto per le opere infrastrutturali viarie. Più rassicuranti sono stati i commenti, le dichiarazioni di questi ultimi giorni riguardo le altre opere. Penso all'Arena di Santa Giulia a Milano che è partita con grave ritardo ma adesso dovrebbe recuperare. E poi anche sul patinaggio di velocità c'è stato un dietro front rispetto a Baselga di Pinedo dove doveva sorgere un nuovo impianto e ci sia rifugiati per così dire nella Fiera di Milano a Rò dove ci saranno le gare di patinaggio di velocità. Però il tema più spinoso attualmente è il ragione Maurizio è proprio quello della pista da Bob. L'impatto ambientale della costruzione di una nuova pista da Bob in quella di Cortina sarebbe davvero molto molto alto il che fa propendere molti all'ipotesi di trovare delle soluzioni alternative. dove potrebbero essere queste se fatta avanti Innsbruck ad esempio che non è lontanissima dalla zona di gara di Cortina complicata da raggiungere ma non lontanissima Innsbruck dice la nostra c'è è funzionante venite a fare le gare di Bob, Slitino e Scheleton qui da noi però l'orgoglio italiano verrebbe appunto sul vivo ma la stessa cosa potrebbe accadere in un'altra località non austriaca ma svizzera anche St. Moritz che ha una pista da Bob ha detto se volete venite qui tra l'altro da Livigno e dall'alta Valtellina St. Moritz non è irraggiungibile però anche qui si andrebbe in un'altra nazione l'altra ipotesi è quella che dicevi tu di Cesana Torinese con la pista delle Olimpiadi Invernali di Torino qui sarebbe un po' più complicata la logistica però potrebbe tranquillamente essere un'ipotesi quanto a quello che dicevi tu Maurizio inizialmente Torino si era fatto avanti con il Piemonte per essere parte del progetto però già era complicata la logistica di Veneto e Lombardia figurarsi se si fosse aggiunta anche la partnership con il Piemonte certo è che potrebbe essere un'ipotesi anche quella di Cesana ma complicherebbe ulteriormente una logistica già molto molto delicata che vede l'alta Valtellina l'Alto Cadore e Milano coinvolte in questi giochi che sono affascinanti dal punto di vista delle relazioni complicati dal punto di vista dell'organizzazione ci sono state poi anche altre polemiche relativamente alla splendida Conca di Bormio perché oltre all'impatto delle nuove tribune che devono essere costruite all'arrivo della pista Stelvio si è raggiunta come opera collegata alle Olimpiadi una tangenziale che avrebbe attraversato il Pian della Lute una zona verde caratteristica proprio della Conca di Bormio che sarebbe stata oggettivamente deturpata e rovinata definitivamente per fortuna sembra che su questa tangenziale ci sia stato un dietro front che ci auguriamo possa essere definitivo insomma vedremo che cosa accadrà io ho l'impressione che difficilmente verrà costruita la pista a Cortina anche perché il problema è che nessun imprenditore si è fatto avanti nelle ultime settimane dicendo sì la voglio costruire io sono disponibile perché i rischi sono più alti rispetto ai vantaggi in un'opera di quel tipo staremo a vedere credo che alla fine si potrebbe andare a Innsbruck sbaglierò ma le quotazioni della località dell'Austria sembrerebbero almeno dal mio punto di vista in risalita però sapete siamo in Italia tutto può accadere vedremo mi auguro che si vada presto a trovare una soluzione perché poi bisogna lavorare davvero con grande puntualità per far sì che le Olimpiadi vengano celebrate al meglio senza lavori in emergenza che sono quelli poi che lasciano più segno anche sul territorio anche dal punto di vista ambientale andiamo a sentire un'altra domanda Berlusconi al famedio dedicata a un salone in regione ma lo faranno beato? nessuno si oppone? so del suo grande impegno come imprenditore ma ricordiamoci del bunga bunga e dei disastri fatti in politica ciao ciao Fabio è Ambrogio piuttosto secco con questa sua affermazione insomma non gli va giù il fatto che Berlusconi possa entrare tra i grandi di Milano nel famedio accanto ad Alessandro Manzoni solo per citare uno dei grandi padri della cultura e della identità lombarda e milanese nessuno si è opposto? allora è un tema molto delicato Ambrogio certo una figura controversa come quella di Berlusconi forse avrebbe richiesto in un paese normale una maggiore attenzione una maggiore cautela perché nel famedio si devono comunque celebrare nomi condivisi da tutti non deve essere una gara a rivendicare questo piuttosto che quella ebbene il problema è che su Berlusconi non c'è un atteggiamento sereno da parte dell'opinione pubblica c'è una parte segnatamente Forza Italia che vorrebbe volentieri beatificarlo quindi la tua battuta Ambrogio è tutt'altro che campata per aria anche perché basti vedere quello che è stato costruito attorno al funerale di Berlusconi con un'esposizione mediatica e un trattamento cinematografico potremmo chiamarlo così che davvero era degno di una beatificazione laica della sua figura Berlusconi rimane un personaggio controverso la logica avrebbe detto e avrebbe richiesto maggiore prudenza rispetto a un'iscrizione alfa medio però nelle condizioni in cui siamo ora con il governo attuale con le tensioni così evidenti e la difficoltà di un dialogo rispettoso tra le parti nel comune di Milano nessuno si è sentito di alzare le barricate e fare uno scontro sulla figura di Berlusconi a conti fatti probabilmente la decisione meno problematica meno impattante è forse proprio questa forse un ragionamento un po' così cinico un po' all'insegna della ragione di Stato però di fatto era difficile pensare di far esplodere una bagarre una baruffa sul nome di Berlusconi alfa medio alla fine credo a denti sterretti ingoiando un po' di amaro in bocca anche coloro che più hanno combattuto Berlusconi mentre era in vita hanno detto vabbè il male minore forse è proprio metterlo lì alfa medio la reazione della figlia di Saverio Borrelli è stata abbastanza secca e piccata della serie se ci mettete Berlusconi togliete mio padre insomma ci sono ancora tante scorie relative al modo con cui Berlusconi ha affrontato la sua vicenda da imprenditore prima ma soprattutto da politico dopo non si è tirato indietro su nulla ha creato grande conflittualità Berlusconi ha fatto anche delle cose che hanno lasciato il segno nel bene e anche nel male nel nostro paese forse culturalmente il berlusconismo ha lasciato scorie difficili da smaltire e non ha certo migliorato il paese però da altri punti di vista Berlusconi è stato un uomo che ha segnato un'epoca e quindi era difficile dire di no a Berlusconi alfa medio giustamente Ambrogio ma tanti altri dicono ma se onoriamo lui così quello dovrebbe essere l'onore concesso alle personalità che hanno dato lustro al nostro paese alla città di Milano da un certo punto di vista Berlusconi ha dato un contributo fondamentale a Milano che poi l'abbia dato migliorandola o creando maggiori problemi questo ha a che fare con i giudizi sulla sua controversa figura certo diciamo così il fa medio negli ultimi anni è diventato un luogo in cui rivendicare delle appartenenze e far sì che possano essere riconosciute anche delle parti che magari fino a qualche tempo fa si sentivano escluse anche dalla opinione pubblica dalla pubblica considerazione quindi diciamo così è eslittato un po' anche il significato dell'iscrizione dei nomi al fa medio fino a qualche decennio fa al fa medio arrivavano solo davvero le figure grandi e condivise oggi al fa medio si fa una sorta di manuale cencelli ci metto questo però tu mi metti anche quell'altro sono i segni dei tempi caro Mambrogio capisco lo sconcerto capisco però anche il fatto che non era opportuno probabilmente oggi scatenare una bagarre con una società già così divisa e individualistica su una figura come quella di Berlusconi non lo so ho più punti interrogativi come vedi Mambrogio che certezze però prendo atto anche del scivolamento del significato pubblico dell'iscrizione al fa medio perché davvero se uno va a leggere al cinetero monumentale i nomi lì presenti qualcuno è sconosciuto ai più altri sono molto controversi se dovessimo andare a vedere quelli che tutti potrebbero dire sì su questo non c'è dubbio probabilmente dovremmo scremare di molto quell'elenco dei nomi che vediamo iscritti al fa medio del cimitero monumentale rimaniamo a Milano con un'altra domanda ciao Fabio la vicenda del destino di San Siro e del futuro di uno stadio a Milano è indubbiamente complessa però forse non contribuiscono a chiarirla alcune dichiarazioni come per esempio le ultime fatte dal sindaco Sala che da un lato definisce senza mezzi termini vergognoso il vincolo culturale posto dalla sovrintendenza sul Meazza perché lo considera un impedimento al fatto che si possa costruire lì un nuovo stadio salvo poi aggiungere continuo a pensare che San Siro ha la sua ragione d'essere anche per il futuro dato che ospiterà nel 2026 l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali e poi probabilmente la finale di Champions e conclude insomma è uno stadio tutt'altro che morto non ti sembra un tantino contraddittorio? grazie Mauro grazie Mauro certo è interessante la tua domanda e sì è contraddittorio anche l'atteggiamento del sindaco Beppe Sala che però secondo me può essere compreso in un'ottica quella di tentare di riuscire a far sì che lo stadio di San Siro non rimanga lì sul groppone del comune di Milano con le due squadre di Milano attualmente in serie A Milan e Inter che vanno a giocare altrove perché è già nota la mossa ufficiale fatta dal Milan di richiedere la possibilità di costruire uno stadio a San Donato e altre sì molto avanzata anche l'ipotesi anche se non ufficializzata con degli atti consegnati al comune l'ipotesi dell'Inter di andare in quella di Rozzano a quel punto San Siro rimarrebbe lì non ci sarebbero i soldi per abbatterlo ma anche perché non si vedrebbe perché abbatterlo se non costruisci qualcosa lì vicino ma non ci sarebbe neanche un'ipotesi plausibile per la sua gestione ordinaria San Siro è uno stadio che ha bisogno di un ammodernamento significativo perché è una struttura obsoleta bella ma obsoleta e ha bisogno anche di un numero sufficiente di eventi molto molto partecipati ogni anno perché ci sia una sostenibilità della sua gestione e allora l'atteggiamento apparentemente non solo apparentemente contraddittorio di Beppe Sala è funzionale a trovare tutte le possibili soluzioni per una vicenda intricata la definisco così come quella del Meazza di San Siro certo il progetto iniziale delle due squadre che avrebbero utilizzato il nuovo stadio accanto a San Siro adesso sembra tramontato anche perché quello che è stato detto ultimamente in particolare dai dirigenti dell'Inter è che il permanere a San Siro di due squadre sarebbe stato problematico ma a questo punto mi chiedo non sarebbe problematico anche il permanere di due squadre nel nuovo stadio lì accanto a San Siro e allora il dubbio è vuoi vedere che si sono resi conto che quel progetto con uno stadio condiviso non aveva effettivamente un futuro e questo è stato un un ragionamento maturato proprio in questi mesi e allora l'ipotesi dei due stadi fatti altrove per Milano sarebbe davvero una iattura perché lascerebbe la struttura del Meazza interamente a carico del comune tant'è che un paio di giorni fa nell'ennesima dichiarazione resa ai giornalisti il sindaco di Milano Sala ha anche detto se c'è una squadra che vuole acquistarlo noi ci mettiamo totalmente a disposizione come comune anzi contribuiamo anche alle spese di ristrutturazione oppure l'altra l'altra opzione è quella di dire vediamo se riusciamo a togliere il vincolo come comune torniamo a ragionare con una o con tutte e due le squadre per San Siro insomma il problema di Sala in questo momento che si è infilato in un ginepraio è quello di non ritrovarsi le due squadre che giocano altrove e San Siro totalmente a carico del comune di Milano dopodiché lì bisognerebbe inventarsi qualcosa Milano saprebbe comunque inventarsi qualcosa per il Meazza però sarebbe molto molto complicato e allora il tentativo secondo me di Sala in questo momento è di tenere aperte tutte le porte possibili perché di fatto io credo che il progetto per il nuovo stadio di fianco a San Siro sia definitivamente tramontato e adesso per l'ipotesi di una squadra che va altrove a questo punto è più avanzato il Milan che potrebbe andare a San Donato e l'Inter che potrebbe a questo punto riprendere in considerazione l'ipotesi del Meazza è una strada a sua volta da esplorare perché ribadisco dalle dichiarazioni sentite negli ultime settimane l'ipotesi di una condivisione dello stadio non so quanto vada a genio alle due squadre quindi è un ragionamento complicato Sala effettivamente cammina sulle uova e dà l'impressione anche di avere degli atteggiamenti contraddittori però lui da manager qual è deve o qual era scegliete voi deve tenere aperte tutte le opzioni per non ritrovarsi un enorme problema da gestire come città poi dai problemi spesso arrivano anche delle opportunità però se si possono evitare i problemi sicuramente è meglio per cui situazione molto molto complicata quello che io dico e mi auguro è che davvero non ci siano due squadre che si costruiscono un loro stadio peraltro fuori anche dalla cinta d'aziaria milanese questo è relativo perché ormai Milano è città metropolitana quindi Rozzano piuttosto che San Donato sono Milano e i milanesi devono mettersi in quest'ottica anche questa dimensione così nostalgico sentimentale del dire è Milano solo fino alla gobba poi appena fuori dalla gobba è un territorio sconosciuto deve essere superata Milano ormai ai confini della città metropolitana e anche oltre quindi non è questo il problema secondo me il problema però è capire effettivamente di quell'area di quello stadio che ha fatto la storia che è nel cuore di tante generazioni di sportivi a San Siro il Meazza che cosa ne facciamo poi e secondo me Sala è preoccupato in particolare per quello e al momento non ha la soluzione e da qui anche queste dichiarazioni contraddittorie che io leggo così però come aperture implicite o esplicite nei confronti anche delle due società della serie guardate il comune non ce l'ha con voi il comune vuole agevolarvi troviamo assieme una soluzione poi dopo a livello di contraddittorietà anche le due società non scherzano perché sia come assetti societari sia come strategia di sviluppo al di là della mossa ufficiale fatta da Scaroni per il Milan con il comune di San Donato beh anche lì di contraddizione ne abbiamo viste mica poco mica poche in questi ultimi anni quindi soluzione complicata a me non dispiacerebbe riuscire a mettere al tavolo un po' tutti le due squadre il comune non è che devo farlo io non dispiacerebbe così come una dichiarazione generica per dire ma vogliamo fare davvero un progetto per lo sport più in generale per questa città perché secondo me non è solo calcio di cui ci si deve occupare perché il nuovo o rinnovato Meazza o gli altri stadi che devono essere costruiti non possono essere solo puntati all'esclusivo calcio ma dovrebbero essere davvero aperti anche a tanti altri sport perché non ci si siede a un tavolo e si prova a immaginare il futuro di una Milano dello sport con il calcio al centro e con nuove strutture da costruire perché farlo assieme secondo me è meglio piuttosto che farlo esclusivamente per interessi commerciali delle squadre in questo momento però paiono prevalere quelli e non so quanto questo convenga anche alle squadre perché in questo modo secondo me si allontanano sempre di più anche dal comune sentire della città e quando una squadra va troppo a spingere sulla dimensione finanziaria e del business presto o tardi più presto che tardi tanti tifosi se li gioca e li perde per strada forse è un'illusione la mia però sarebbe davvero secondo me la prospettiva politicamente e anche di politica dello sport più interessante e chiudiamo andando in una delle aree che sta diventando più calda in questo momento a livello internazionale ecco ci li siamo Hamas attacca Israele la Palestina è uno stato terrorista ma perché non diciamo le cose come stanno Israele è stato uno stato costruito rubando terre palestinesi da anni è uno stato che non rispetta le sanzioni dell'ONU da anni è uno stato che occupa perché siamo territori occupati molte zone dove i palestinesi avrebbero diritto di esistere Gesù Cristo è nato a Gerusalemme in Palestina la palestina è stata prima dello stato di Israele quando faremo a meno di essere ipocriti e diciamo che sì Israele ha diritto di vivere esatto ma la palestina ha diritto anch'essa di essere uno stato perché continuiamo a fingere di essere democratici quando poi sappiamo benissimo che Israele è uno degli stati più armati del mondo che Israele è sostenuto da tutto il mondo che Israele è uno stato occupante perché se è vero che in Russia e in Ucraina c'è un invaso e un invasore è anche vero che in Israele e in Palestina c'è un occupante e un occupato quando finiranno i suoi ipocriti Ugo da Milano grazie Ugo allora la tua è una riflessione molto molto secca che prende parte evidentemente per i palestinesi quello a cui abbiamo assistito però nelle ultime ore è un vero attacco terroristico non è lo stato palestinese che tra l'altro bisogna capire da chi è retto in questo momento che tipo di configurazione ha se esiste effettivamente uno stato palestinese o se non esistono invece dei territori che faticano a trovare una sintesi a trasformarsi in stato magari ci fosse uno stato palestinese riconosciuto da Israele in questo momento non c'è e quello di ieri di Hamas è un attacco terroristico non si può definire altrimenti quindi la definizione non è lo stato palestinese uno stato terroristico ma l'azione fatta da Hamas conferma il fatto che Hamas si muove come una organizzazione terrorista quello di ieri è un attacco terrorista cioè 5.000 missili lanciati in maniera anche confusa anche perché non sofisticati quindi possono cadere ovunque non sanno neanche quelli di Hamas dove cadono i missili in realtà in più poi quest'incursione inedita inaspettata nel territorio israeliano attorno alla striscia di Gaza beh quella è un'azione terroristica con esecuzioni in strada presa di ostaggi ecco la presa di ostaggi è contraria a ogni aspetto del diritto internazionale quindi nella giornata di ieri tutte le reazioni internazionali sono state Israele ha diritto a difendersi e dopo l'attacco di ieri è chiaro che la situazione è una situazione che tutti definiscono di guerra e lo stato di Israele nella fattispecie ha il dovere di difendersi e di difendere i suoi cittadini questo è inconfutabile per quanto riguarda quello accaduto ieri poi se andiamo a vedere l'atteggiamento che ha tenuto in questi ultimi anni Israele è un atteggiamento provocatorio continue incursioni nei territori della striscia di Gaza e della Cisgiordania quotidiani alla fine si possono definire anche rastrellamenti alla ricerca di veri o presunti terroristi insediamenti di nuovi coloni in territori che risultano essere effettivamente storicamente parte dei territori palestinesi ecco tutto questo è chiaro che sono che sono azioni da ascrivere nel rango delle provocazioni e della violenza di Israele nei confronti dei palestinesi Benjamin Netanyahu d'altronde non ha mai nascosto con il suo governo appoggiato anche dall'estrema destra questo atteggiamento aggressivo un atteggiamento aggressivo che ha portato non giustificato ha portato a questa azione terroristica da parte di Hamas che si è vista nella prima mattina di ieri nei territori del Medio Oriente che cosa accadrà adesso è difficile dirlo io credo abbia ragione il cardinale Pier Battista Pizzaballa patriarca latino di Gerusalemme a dire ora bisogna trovare altre strade perché la strada della contrapposizione cioè dell'attacco delle provocazioni della reazione alle provocazioni dove porta? Allora Hamas non ha certo la possibilità di distruggere Israele questo è evidente e allora perché lo fa? E lo fa per tenere alta la tensione per far sì che Israele sia in difficoltà e faccia delle mosse sconclusionate lo fa probabilmente per impedire una saldatura ulteriore dei rapporti tra Israele e l'Arabia Saudita perché l'Iran non ha interesse che questo accada e finanzia dunque Hamas lo fa Hamas perché non vuole che gli accordi di Abramo vadano avanti anche perché configurano questi accordi un'emarginazione dell'Iran sciita e dei movimenti come Hamas e Zbollah in Libano un'emarginazione rispetto a un mondo arabo-islamico che potrebbe essere più propenso a pendere verso il Nord Africa con il Marocco e con l'Egitto insomma ci sono tanti elementi di carattere regionale che dicono come Hamas sia una pedina utile per boicottare il cambio di equilibri nella zona equilibri complicatissimi che spesso si giocano sulle spalle dei palestinesi e di Israele e Israele che rimane l'unica democrazia di quella zona possiamo dire quello che vogliamo dobbiamo anche condannare e criticare l'atteggiamento di un Benjamin Netanyahu che provoca e continua a provocare e degli ultra-ortodossi che continuano a fare le camminate sulla spianata del Tempio sapendo che quello innalza la tensione e crea le condizioni per ulteriori scopi di violenza ma gli attentati all'interno dello Stato di Israele sembra quasi che da alcune parti le più oltransiste della destra israeliana siano quasi colti come uno spunto e un'occasione per avere reazioni violente nei confronti dei palestinesi capite e capisci Ugo che se ci si mette in quest'ottica lì l'unica strada è la violenza allora ha ragione il Cardinal Pizzaballa a dire è il momento di provare a trovare qualche altra soluzione certo ora siamo in guerra perché quella che stiamo vedendo in queste ore è guerra e tra l'altro lascia attoniti e abbastanza sconcertati il fatto che quella che viene da anni considerata come una delle più efficienti intelligence a livello mondiale quella del Mossad israeliano non sia riuscita a prevenire a capire quello che stava accadendo probabilmente questo è un portato delle enormi tensioni che ci sono all'interno dello Stato di Israele le divisioni anche nell'esercito per la politica di Benjamin Netanyahu e del suo governo di andare a cambiare le regole costituzionali per andare a diminuire anche il potere della Corte Suprema e aumentare quello del governo insomma tanti elementi di tensione che hanno portato all'esplosione di una situazione che era molto molto incerta che cosa accadrà adesso francamente non sono in grado di dirlo certo bisogna cambiare registro l'ipotesi di uno Stato palestinese vero e proprio deve essere messa in campo perché se ci fosse uno Stato palestinese riconosciuto da Israele che si possa confrontare con Israele si risolverebbero anche queste questioni e interesse però dell'attuale Israele probabilmente farci che questo non accada per avere mano libera perché si sente più forte dal punto di vista militare quello che è accaduto ieri mette in dubbio molte delle certezze di Israele e staremo a vedere adesso la risposta di Israele sarà violenta vedremo come andrà avanti la situazione se entrerà in campo anche Zbolla da nord dal Libano insomma situazione molto molto preoccupante non la si risolve però dicendo questo è terrorista quell'altro è terrorista non bisogna schierarsi per questo o quell'altro la comunità internazionale ha un'enorme responsabilità su questa vicenda io dico due stati che si riconoscono a vicenda questa è la prospettiva so che al momento sembra impossibile ma bisogna andare in quella direzione Ugo non ti ho risposto però abbiamo ragionato assieme e credo che questo nella preoccupazione che tutti abbiamo per quello che sta accadendo in Medio Oriente sia sempre utile grazie a tutti per aver seguito questa puntata aspetto le vostre domande per la prossima buona domenica e buona settimana e buona settimana Grazie a tutti.